Micropillolina da 45 secondi, Trump scrive testualmente, aperte le virgolette, Putin sta suonando Biden come un tamburo, non è un bello spettacolo da vedere, chiuse le virgolette. Che aggiungere? Che aggiungere? Credo che non ci sia altro da aggiungere. Hai ragione Donald, hai pienamente ragione. Non è un bello spettacolo da vedere, ma è esposizione.